Incendio fatale lunedì pomeriggio a poca distanza dal centro abitato della frazione cascinare di Sant'Elpidio a Mare in cui a perdere la vita è stato un uomo di 55 anni, Filippo Mattiozzi, ucciso dalle isolazioni di fumo. L'allarme è scattato poco prima delle 17 in via Ariosso, in una casa singola riscaldata dal camino ed è stato proprio da lì che ha avuto origine tutta la tragedia, come ci ha raccontato stamattina la compagna convivente della vittima, ancora sotto shock, tornata all'esterno dell'abitazione per recuperare l'autovettura. Io stavo a Civitanova, sono tornato, sono entrato in casa, lui aveva acceso il camino e mi stavo e ho detto adesso ci cambiamo, poi dovevamo uscire. Io sono andata in bagno, mi sono dato una lavata, stavo in camera da letto a cambiarmi, tutto un minuto. Mentre mi cambiavo ho sentito una puzza di bruciato e apro subito la porta, come sento sto bruciato, vengo il fumo. Corri, dico riusciamo Filippo, Filippo usciamo, usciamo e Filippo mi ha detto un attimo vado in bagno. Invece io sono uscita, dico Filippo vai, ho chiamato i bambieri, vieni fuori che te non ce la fai più a spegnerlo. Ma ha detto adesso arrivo, l'ultima parola è che ho sentito da lui e poi sono venuti tutti e l'hanno ritrovato, gli hanno fatto tutto, ha detto che era morto per decesso di ossido di carbonio. Sul corpo dell'uomo non sono stati disposti ulteriori accertamenti e la salma è stata restituita alla famiglia. La camera ardente di Filippo Mattiozzi è stata allestita presso l'ospedale Murri di Fermo, mentre i funerali si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle ore 15 presso la chiesa collegiata di Sant'Elpidio a Mare.